Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, ho recuperato, ho ritrovato per caso in questi giorni, questo volumetto che avevo dimenticato di avere. Mezzi corazzati e blindati dal 1935 al 1939, il dodicesimo volume della collana, gli eserciti del ventesimo secolo, un'opera di Nicola Pignato della Curcio Periodici, uno strumento, cioè, brevi schede, brevi storie introduttive ai vari mezzi così, con delle brevi schede illustrate con fotografie e disegni. Allora, Pignato ci parla, allora, ho pensato di usare l'opera di Pignato per farvi vedere uno dei mezzi indubbiamente più importanti, uno dei mezzi corazzati indubbiamente più importanti della Seconda Guerra Mondiale. Un mezzo corazzato che si è fatto tutta la guerra, tutta la Seconda Guerra Mondiale, dal primo all'ultimo giorno. Un mezzo corazzato che ha contribuito con la sua presenza, con la sua affidabilità, con il suo servizio, ha contribuito grandemente alla vittoria degli alleati contro la Germania. Parlo di questo, eccolo qua, lo Universal Carrier, sì, esatto, proprio lui, il Bren Carrier, un mezzo cingolato derivato dal famoso carro leggero Carden-Lloyd, un mezzo cingolato che portava un fucilone, nella maggior parte dei casi, un semplice fucili mitragliatore Bren, oppure anche un fucilone contro carro Boyce da 13,9 mm. Un mezzo, il Bren Carrier, semplice, ben costruito, estremamente affidabile, che come mezzo esplorante, come mezzo da trasporto truppe, come mezzo da trasporto munizioni, come mezzo da trasporto, come mezzo anche da combattimento per l'affanteria, ha veramente contribuito in maniera estremamente importante alla vittoria alleata contro i tedeschi. Allora, molto probabilmente il Bren Carrier è il più celebre veicolo corazzato inglese. È una carretta cingolata, quello che insomma viene comunemente chiamato un veicolo cingolato leggero, adottato dalla fanteria britannica nell'imminenza della Seconda Guerra Mondiale. E come ho già detto, costituisce lo sviluppo finale del cingolato Carden-Lloyd del 1927. Ripeto, era un veicolo molto adattabile e aveva la duplice funzione di veicolo da trasporto e di veicolo da combattimento, anche se oggettivamente non era molto salutare con un Bren Carrier andare contro anche i nostri carrier mati M, ecco, diciamoci la verità. Allora, fu inizialmente prodotto nella versione Bren Carrier, cioè porta mitragliatore Bren, che fu poi una definizione che fu poi abbandonata in favore di quella denominata Universal Carrier, ovvero sia trasporto universale. Aveva un compartimento posteriore per il materiale o per i soldati e se ne ebbero parecchie versioni. Le principali furono quella per il trasporto di una squadra di fucilieri, quella per i mortai o quella per il traino dei cannoni contro carro da 57 mm, i 6 libri, insomma. Insomma, i cannoni da 6 libri come vengono definiti secondo la denominazione britannica. Lo Universal Carrier, il Bren Carrier, insomma, fu prodotto in grossissimi quantitativi, si parla di centomila esemplari, ok? Cioè, scusate signori, centomila esemplari di Bren Carrier. Insomma, signori, non sono mica pochi. Si tratta del mezzo corazzato costruito probabilmente in più esemplari della storia. Centomila esemplari. E con quei centomila esemplari, ovviamente, diciamoci la verità, cioè, da il... Dicevo, praticamente, il Bren Carrier, ripeto, eccolo qua. Ne furono costruiti, ripeto, circa centomila esemplari. Che non sono mica pochi, detta com'è. Fu, ripeto, fu prodotta anche in America. Cioè, gli Stati Uniti videro, insomma, la usarono ampiamente, la costruirono su licenza, e in Italia se ne sviluppò un modello simile a quello americano. Anche i tedeschi la usarono ampiamente, perché ci sono decine, centinaia di foto di Bren Carrier inglesi catturati dai tedeschi e usati dai tedeschi, come dire, in maniera molto... cioè, in maniera molto vasta. Cioè, i tedeschi, insomma, mettiamola così. Tutti noi abbiamo l'idea dell'esercito tedesco come di una impressionante e modernissima macchina da guerra. Questo è vero fino ad un certo punto, perché ricordiamoci una cosa. La maggior parte della logistica tedesca si muoveva coi cavalli. Eh, i tedeschi avevano sì, come dire, una forte componente meccanizzata nelle truppe di prima linea. Ma la loro logistica, la logistica tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, si muoveva essenzialmente a cavallo. È un mezzo come questo qui, è un mezzo come questo qui, catturato, cioè un mezzo semplice, affidabile, di facilissima guida, di facilissimo uso e ancora più facile manutenzione. Era un'autentica manna dal cielo, perché era veramente facile da tenere in funzione, insomma, un mezzo estremamente affidabile. E i tedeschi non si vergognarono minimamente di usarlo, considerato, ripeto, considerato il fatto che la loro logistica era essenzialmente ipotrainata. Ecco, detta così com'è. E non si vergognarono minimamente di ricavarne anche dei mezzi da combattimento, tipo per esempio un semovente anti-aereo leggeri, e ne tirarono fuori anche una versione per i cacciatori di carri, cioè praticamente trasportava una squadra di fucilieri addestrati a cacciare i carri che venivano, insomma, si muovevano con i brain carrier catturati agli inglesi. Il brain carrier, ripeto, fu veramente il nerbo della logistica di prima linea inglese, perché era un mezzo dalle eccellenti prestazioni fuoristrada, era un mezzo, ripeto, semplice, affidabile, un mezzo di facilissima manutenzione, un mezzo dalle ancor più facile guida, cioè qualunque soldato dopo una settimana era in grado veramente di impennarci o di farci le pieghe stile Valentino Rossi, ecco, per dire, perché era realmente un mezzo dalla guidabilità, oserei dire, elementare e dalla ancora più elementare manutenzione che è una cosa estremamente importante in guerra. Aveva un aveva un motore Ford TL a benzina da un V8 da 85 cavalli, andava, insomma, la velocità massima era di circa 50 km orari e aveva delle discrete prestazioni in fuoristrada, cioè, aveva anche un'autonomia di 200 km, insomma, per un V8 benzina valvole laterali degli anni degli anni 30 non era poi così male, insomma, detta così come è. Ripeto, un mezzo estremamente versatile, un mezzo che la semplicità estrema, cioè, la capacità di meccanizzare, di muovere, di far muovere un intero esercito su mezzi meccanici, ecco, il rifornimento delle munizioni in prima linea, il trasporto di squadre, di soldati verso la prima linea, la ricognizione, l'esplorazione, il presidio, questo piccolo mezzo, insomma, era, come dire, pesava, insomma, come dire, pesava tre tonnellate e mezza, era lungo tre metri settantacinque e largo due metri e quindici, quindi era poco più grande, poco più, poco più grande di un moderno SUV, diciamo così, andava dappertutto perché, ripeto, derivava, era l'evoluzione estrema del famoso cingolato Carden-Lloyd che è considerato uno dei primissimi mezzi cingolati militari moderni e partito, insomma, come dire, creato su una base già affidabile di suo come quella del Carden-Lloyd, lo Universal Carrier o Brain Carrier, chiamiamolo come vi pare, fu realmente in tutti i sensi il cavallo da tiro dell'esercito inglese e anche di quello americano perché, ripeto, la logistica in guerra è tutto. Tu devi essere in grado di portare verso la prima linea armi, munizioni e rifornimento di ogni tipo e di riportare verso le retrovie feriti, prigionieri, sì, insomma, feriti e prigionieri riportati verso le retrovie, i collegamenti, cioè, tutto, la logistica è tutto in guerra, le piccole cose, l'avere la possibilità di usare un gran numero di mezzi meccanizzati, di mezzi corazzati, di mezzi cingolati, veloci, leggeri, di facile manutenzione, di facile guida, di facile uso, per una miriade di scopi, ripeto, trasporto squadre mortai, trasporto munizioni, trasporto soldati, trasporto prigionieri, trasporto di viveri, trasporto di qualsiasi cosa verso, da e verso le prime linee, la logistica è tutto in guerra, e questo piccolo mezzo corazzato, questo scatolotto, questo bello scatolotto corazzato, era un mezzo assolutamente indispensabile per l'esercito inglese e anche per gli americani, i tedeschi lo apprezzarono grandemente e ne usarono come dire, decine e decine di esemplari, facendone anche delle modifiche campali e studiandolo anche come, trasformandolo, spesso monetieri in un mezzo semovente per il trasporto ripeto, di artiglieria leggera, di artiglieria antiaerea, di squadre, di cacciatori di carri, eccetera, 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 perché era un mezzo efficiente e versatile, la semplicità costruttiva, l'efficienza, la versatilità del mezzo, questo che vedete nella foto, questo qui che vedete nel disegno è un esemplare che fu catturato fu catturato nel 1942 in Africa dai tedeschi che lo usarono che lo usarono contro gli ex proprietari detta così come e il fatto è semplicemente questo cioè il dato cioè allora ricapitoliamo un attimo mi sto impappinando quindi ricapitoliamo un attimo l'idea centomila esemplari di Universal Carrier ok cioè questa cifra centomila esemplari di Universal Carrier dice ma cos'è? bella forza cioè detto che cos'è? uno scatolino corazzato? sì ma è questo scatolino corazzato che trasportava le munizioni verso la prima linea era questo scatolino corazzato che trasportava i soldati di rimpiazzo verso la prima linea era questo scatolino corazzato che riportava indietro i feriti era questo scatolino corazzato che portava i rifornimenti anche di cibo verso e del rancio verso la prima linea era questo scatolino corazzato a come dire esplorare a esplorare le linee nemiche le avanguardie con questo scatolino corazzato gli inglesi ci hanno vinto la guerra perché questo scatolino corazzato ripeto era è stato il primo mezzo moderno per la logistica la logistica la logistica di prima linea inglese si muoveva essenzialmente su questo scatolino lo universal carrier era veramente il nerbo della logistica britannica va bene c'erano i camion c'erano insomma non me lo non me lo invento a certo punto ma ma oggettivamente tu su per le colline della valle del metauro non ci puoi certo andare con un camion betford no sulle colline e ripeto è mia intenzione prima o poi riuscire a fare un video sul terreno cioè farò un video presto spero spero presto in cui cercherò di spiegare come il territorio italiano sia stato durante la seconda guerra mondiale il peggior teatro possibile e immaginabile peggio ancora del teatro cino-indo-birbano o della nuova guinea e vi spiegherò il perché portandovi dalle mie parti ma facendovi vedere alcune cose così in certe zone della prima linea tu non ci puoi andare con i camion non ci puoi nemmeno andare con le jeep tu ci devi andare con un mezzo che ti garantisce mobilità anche in terreno estremamente difficile e il brain carrier aveva eccellenti prestazioni fuoristrada ripeto quando tu devi avanzare verso le linee nemiche e portare delle pattuglie esploranti su questo l'artiglieria ha bisogno di proiettili con cosa porti i proiettili con questo c'è bisogno di portare non lo so una squadra mortai nei pressi della prima linea eccolo sempre lui sempre il brain carrier sempre l'universal carrier ci sono il fotografo il fotografo della città di Fossombrone ha un ricchissimo archivio di fotografie anche inerenti al passaggio del fronte a Fossombrone dove si vedono veramente decine di brain carrier che attraversano il guado del Metauro qui vicino a casa mia i polacchi i soldati polacchi dell'ottava armata britannica i polacchi del generale Anders gli eroi di Monte Cassino hanno guadato il fiume a circa 2 km da casa mia se cercate nella timeline del canale troverete anche il video che ho girato nel punto approssimativo in cui i polacchi guadarono il fiume Metauro e indovinate un po' con che cosa guadarono il fiume Metauro i polacchi sempre lui sempre il brain carrier per vincere le guerre va bene è vero ci vogliono i carri armati ci vogliono i caccia ci vogliono i bombardieri ci vogliono l'artiglieria ma 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 l'umile piccolo inconfondibile universal carrier era quello che portava le munizioni all'artiglieria portava la benzina ai carri armati portava i rimpiazzi per gli equipaggi dei carri armati portava tutto e senza lo universal carrier la guerra degli inglesi sarebbe stata estremamente più difficoltosa perché con lo universal carrier l'esercito inglese si muoveva il nerbo il nerbo della logistica ripeto i camion va bene per la logistica tra virgolette di seconda linea ma per la logistica di prima linea il brain carrier fu assolutamente insostituibile per tutta la durata della guerra molto più quanto la jeep quanto il Dakota quanto se vogliamo i camion da tre tonnellate quanto gli Sherman il brain carrier il brain carrier fu sicuramente il nerbo della logistica inglese una delle armi risolutive per la vittoria alleata contro i tedeschi fu il brain carrier forse più ancora dei carri armati perché le forze armate britanniche e anche americane che lo usarono in massa si potevano muovere con questo mezzo molto più velocemente rispetto ai colleghi dell'altra parte che per la logistica erano costretti ad usare ancora il cavallo è quindi cari signori io come sempre ripeto il brain carrier fu uno dei mezzi ripeto più ancora degli Sherman più ancora dei caccia il brain carrier fu veramente il nerbo delle capacità di movimento dell'esercito inglese ricordiamoci una cosa compass io quante volte vi ho parlato dell'operazione compass 30.000 anglo-indiani che sfruttando la mobilità dei loro mezzi corazzati la mobilità nel deserto annientano senza quasi senza colpo ferire quattro divisioni italiane ho parlato più volte di compass non c'è bisogno di tornare ma di tornarci sopra però occorre ricordare che se compass fu un così straordinario successo inglese e una cocente e disastrosa disfatta italiana il merito non è tanto dei carri cruiser o del Matilda no il merito della vittoria anglo-indiano insomma della vittoria di Wavel e O'Connor con l'operazione compass gran parte del merito di quella clamorosa vittoria va al brand carrier perché le truppe muovendosi in massa su questi veicoli cingolati avevano una cosa che gli italiani non sapevano neanche dove stava di casa la mobilità la rapidità di movimento la capacità di colpire alle spalle un nemico che non se lo aspettava tutto qua quindi cari signori ripeto a mio modesto e personale giudizio una delle chiavi di volta del successo alleato durante la seconda guerra mondiale contro i tedeschi è lo universal carrier la sua versatilità la sua onnipresenza sul campo di battaglia il suo essere il cavallo da tiro indispensabile e insostituibile della logistica britannica tutto qua quindi ah dimenticavo naturalmente anche le jeep ebbero la loro importanza anche i camion sia inglesi che americani ebbero la loro importanza per la logistica alleata ma ripeto ripeto il vero nervo per la logistica di prima linea era lui l'universal carrier la scatola da scarpe tutto qua quindi cari signori io come sempre vi ringrazio per l'attenzione come sempre vi aspetto i vostri commenti come sempre c'è posto per le vostre considerazioni c'è posto per come dire le vostre aggiunte a questo video e come sempre di nuovo arrivederci al mio prossimo video ciao ciao ciao